E' stato assassinato a colpi di pistola davanti al figlio di 11 anni Luigi Procopio, 45enne ucciso nel pomeriggio di ieri per strada a Napoli in un agguato di stampo camorristico. Tutto è avvenuto in Vico VII della Duchesca, nella cosiddetta zona della Maddalena, quartiere San Lorenzo della città. Procopio, con precedenti di polizia, sembra fosse un contrabbandiere di sigarette di un certo livello e al momento non si esclude che la sua morte sia maturata proprio in questo ambito. Un omicidio in pieno giorno, a pochi passi dall'abitazione della vittima, che nel 2022 era rimasto illeso in un altro agguato ai suoi danni, quando, in via Foria, ben sei colpi di pistola furono sparati ad altezza d'uomo. Questa volta, invece, non ha avuto scampo, morto sul colpo davanti ad un bambino che solo per miracolo è rimasto illeso. Il nome di Luigi Procopio rientra in un'inchiesta culminata qualche anno fa in una serie di arresti a carico di affiliati alla camorra locale, nella quale il nome della vittima era indicato come presunto affiliato al clan Mazzarella. Gli investigatori della squadra mobile stanno indagando per far luce sull'omicidio avvenuto anche alla presenza di diverse persone.